Ciao a tutti amici, ciao ragazzi, vi tengo qua in chat come al solito, benvenuti in una nuova puntata di Radio Tomodashi Ciao, ciao ragazzi, benvenuti, buonasera, buonasera Allora, oggi finalmente torna Radio Tomodashi dopo la mia pausa giapponese, pausa una sega perché comunque ero lì a lavorare Comunque, siamo di nuovo qua dopo che i vecchi ospiti mi hanno dato buca il giorno stesso, la mattina stessa Ma insomma sono rischi del mestiere, per parlare di un argomento molto particolare, ecco che difficilmente si affronta qua a Radio Tomodashi E si affronta in generale sui podcast italiani, non l'ho mai visto questo argomento, almeno non se ne è mai parlato Ovvero parliamo di cavalli, cavalli non tanto anatomicamente e biologicamente ma parliamo di come i cavalli vengono impiegati Possiamo dire utilizzati anche per lavori particolari, quindi parliamo di cavalieri, parliamo di gestori di maneggi Ma parliamo anche di Fantini, Fantini in particolare del Palio di Siena Quindi io vado a presentare subito i miei ospiti, ovvero Jonathan Bartoletti detto Scompiglio E Daniele invece, detto Varen da me, che invece è gestore del maneggio, invece Scompiglio è un Fantino Allora ragazzi, iniziamo subito a rompere il ghiaccio, perché sono convinto che gli amici nella chat Poi anche sottoscritto effettivamente sappiano ben poco di questo argomento Perché il Palio di Siena si vede anche in televisione, credo sia ancora della Rai, no? Dalla 7 ora? Ok, a me tempi c'era ancora la Rai E anche di maneggi, sì, vediamo sempre video, foto di cavalli, eccetera Però effettivamente poi pochi cavalcano, sanno di che cosa si parla, quando si parla di cavalli Ecco, innanzitutto voglio chiedervi come avete iniziato e come vi siete affascinati a questo animale e poi a questa professione Parto io? Vai, partite, vai Allora, vabbè, questa è una passione che ci nasce da piccolo, diciamo che più di un mestiere o un lavoro è una passione che ti porti avanti Poi c'è chi riesce ad arrivare e sfrutta la passione come il lavoro e chi magari lo riesce ad arrivare e quindi cambia strada Io ci sono nato da piccolo, mi ricordo fin da piccolo ero fissato con questi cavalli, con questi animali che mi hanno sempre attratto Sono sempre stato innamorato e poi piano piano crescendo, beh, c'è un iter di tante situazioni Poi cerchi di arrivare a rincorrere il sogno, poi arrivi piano piano e coroni il sogno di tutta la vita, insomma Ma è difficile diventare un fantino del Palio di Siena? È molto difficile, molto difficile perché specialmente la strada per cui percorri per arrivarci è difficile perché ti fa conoscere È difficile perché c'è una mentalità abbastanza chiusa nel fatto che il Palio di Siena, i sienesi se lo sentano su e prima di farti centrare Deve dimostrare tanto, giustamente perché poi alla fine è la loro festa, quindi è giusto facciano così E non è semplice, non è semplice arrivarci, non è semplice rimanerci, non è semplice continuare, non è semplice tenere sempre un livello abbastanza alto Sì sì, poi voglio parlare effettivamente di questa sorta di religione che è per i senesi il Palio di Siena perché è frutto Ma sai, non penso sia più una religione, è più un modo di vivere Un modo di vivere? Loro ci nascano con la contrada, crescano nella contrada, crescano nella famiglia che per loro la famiglia è la contrada e la portano avanti come modo di vita, non è una religione Ok, quindi proprio ci pensano tutti i giorni, tutte le ore Sì, è un ritrovo, una famiglia, è tutto, la contrada, a parte già nel senso, chi la vide di fuori può avere soltanto un discorso di Palio, non è Palio e basta È anche un aiutare le persone, un ritrovo per le famiglie, per i ragazzi, c'è i ragazzi dove vanno ad imparare a sbandierare, ad imparare a sbagliare il tramburo Già perché non c'è solo il Fantino, c'è tante figure No, c'è tante cose, la contrada è un'iniziativa molto positiva per tutti i contrada aioli I contrada aioli, ok, ok, ecco invece, Daniele, te? Io, ovviamente con te c'è una confidenza un po' diversa, non è che lo tratto male perché abbiamo fatto un viaggio in Giappone insieme, prego No, sono d'accordo con lui, anche se poi diventa il tuo lavoro, non nasce mai come tale Nasce come una passione, da me viene da mio papà, che lui era pure appassionatissimo, aveva i cavalli da corsa E poi io e mio fratello abbiamo cominciato fin da piccoli e lui ne era felicissimo e ci ha accompagnato fino ad ora e poi abbiamo realizzato il nostro sogno di aprire il centro ipico Tutta la famiglia lo gestiamo tutti insieme E com'è gestire un centro ipico? Quali sono le difficoltà principali di un lavoro del genere? Le difficoltà sono che tu passi da essere un cliente, quindi sei un ragazzo che va in giro a fare sport, a essere parte del lavoro integrante Quindi cambia tutto, i rapporti che pensavi di avere cambiano totalmente perché tu diventi realmente chi offre i concorsi, chi organizza gli eventi Quindi all'inizio non è stato facile anche perché mi ritengo giovane per fare questo tipo di lavoro Però è stato bello e quando ti muove la passione diciamo tutto ti viene più facile sicuramente E come vengono utilizzati soprattutto i tuoi cavalli? Per che cosa? Allora noi ci occupiamo di saltostacoli Come diciamo magari chi ne ne capisce meno ne sa che anche quando si parla di cavalli E ci sono all'interno così tante discipline, così tanti sport diversi che è come se vai a parlare o di calcio o di basket Cioè quindi di mondi completamente diversi Per esempio il mio e il suo, nonostante c'è il cavallo come protagonista, sono due mondi completamente opposti E noi facciamo sport con i cavalli, facciamo saltostacoli, abbiamo scelto questa disciplina, siamo appassionati di questa disciplina e ci occupiamo di questo Ok, e cos'è, questa domanda la faccio a tutte e due, che cos'è che vi affascina di più del cavallo? Proprio dell'animale in sé per sé? Ma sai io penso che questa è una domanda che, penso che sia la passione che ti porta a farlo Non è una cosa che ti piace, è proprio una cosa che ti senti Io ci sono nato il discorso dei cavalli, che quando vedevo questo animale fin da piccolo Io tutti i giorni ero fisso, mi dovevo portare da mia nonna a vedere i cavalli perché sennò stavo male E quindi poi da lì, poi dopo le corse sono iniziato a montare a cavallo, da lì ci ho sempre avuto in mente il Paio di Siena Poi piano piano, però è sempre stata la passione fin da che nasci Non è che te lo spieghi neanche bene, è una cosa che ci nasce e te la porti avanti alla fine La passione penso sia questa per tutti, per tutti gli sport, per tutti gli animali C'è chi magari ha passione per un animale, chi per un altro e te la porti avanti Sì sì, anch'io difficilmente riescerò a spiegare la mia passione per quelle che vedi intorno a te Ci sono nato praticamente e l'ho portato avanti così Ti invece hai una risposta un po' diversa? Sì, sì e no, a me quello che ha sempre affascinato è che anche se il mio sport viene catalogato come sport individuale Realmente non lo è, cioè tu hai un compagno che spesso fa più di te E quindi questa è la cosa che mi affascina di più Perché è un animale, quindi hai difficoltà a comunicare con lui Però trovi tutti i modi possibili per cooperare insieme e fare sport insieme Ok, allora e invece come si arriva al Paio di Siena? Perché questo è un po' complicato Qual è l'iter per diventare un Fantino del Paio di Siena? L'iter non è che c'è un iter standard e chi deve diventare Fantino deve seguire quello L'iter è che te devi dimostrare nelle corse che ci sono in giro di poter essere all'altezza E devi avere la fortuna di trovare qualcuno che ti dà una chance e ti dà una possibilità per arrivare dove vuoi arrivare Ma non è che è così semplice insomma Ti ho detto prima, cioè il Paio di Siena non è neanche una corsa di cavalli Il Paio di Siena è il Paio di Siena È totalmente tutta un'altra cosa Tutte le corse che ci sono in giro, le regolari, le corse in provincia È tutta un'altra cosa, quando ti entri lì vedi è totalmente tutta un'altra cosa Tra la pressione che c'è delle contrade Perché anche quello poi è una cosa che ti va a influire nella prestazione Tra tutta la festa che c'è che coinvolge tutte le persone Coinvolge tutta la festa, cioè è tutta una cosa fatta a sé Secondo me per far il Fantino del Paio non ci vuole soltanto il saper montare a cavallo A fare le cose, ci vuole che se uno sia predisposto per fare proprio quella cosa lì Perché anche a livello emotivo ti carica tanto E quali sono le pressioni della contrada? Eh vabbè sai, è la pressione della vittoria Poi dipende che se sei un Fantino che ti arrivi alla fine E se sei un Fantino è da aspettative Perché è regolare che se te arrivi una contrada già con dei quagli vinti tra le spalle Se uno fa sempre certe prestazioni le persone pretendano a fare certe prestazioni Se sei un Fantino e magari va nelle contrade e si è abituato un po' Adesso un Fantino magari mediocre le persone ti faranno ancora più pressioni Cioè capito dipende un po' è come anche tutti gli altri sport alla fine Cioè quello che le persone poi dimostrano è quello che pretendano insomma Ok quindi c'è una pressione quasi da ultra Nel senso che... È regolare, loro tengano tanto alla propria contrada Ha proprio valore, ha proprio giubbetto E quindi vogliano in tutte le maniere valorizzarlo il più possibile E te sei l'oggetto tra virgolette che lo deve valorizzare Quindi in quella maniera lì cercano di spronarti il più possibile A fare la prestazione migliore che puoi fare E la contrada è affezionata di più al Fantino? Al cavallo O al cavallo? Eh al cavallo Poi vabbè durante il tempo Durante poi magari diciamo che il Fantino Se riesce a far vedere anche Perché è difficile anche dimostrare il livello umano di una persona Non soltanto ma è professionista Perché non è semplice Perché poi non è semplice neanche scendere le due cose Però alla fine se uno dimostra anche la persona che è a livello umano Poi si affezionano anche del Fantino Non è che ti prendano a calcio insomma Però la cosa importante per loro è il cavallo Il cavallo è una relipia Addirittura? Quello si sente dire nel senso È al palio ma I cavalli sono trattati benissimo Cioè sono tenuti come Dei fascià in quei giorni Perché hanno delle megastalle 3.000 situazioni di attenzioni particolari Cioè è una cosa impressionante Chiunque vedesse certe situazioni direbbe No non è una cosa possibile Perché alla fine Certe attenzioni Magari non ce l'hanno anche per gli umani È vero E qual è la cosa più particolare che è stata fatta per un cavallo? Ma no non c'è cose particolari Però in quei giorni specialmente lì Il cavallo è È il loro mezzo per arrivare alla vittoria Quindi nessuno mai può permettersi di fare qualsiasi cosa Che possa mettere in malo modo il cavallo insomma A me farebbe stra paura una situazione del genere La pressione credo sia veramente veramente tanta Sì 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 no quello sì Poi è bellissimo da vedere Perché se uno Sai qual è il problema magari del palio Che le persone vedano la televisione quello che dura Alla fine la mossa è la corsa Dice sì ma però non sa Però se vedessero tutto quello che c'è dietro Il palio è una manifestazione bellissima Bellissima perché ti coinvolge dall'inizio Da quando il cavallo arriva Dall'assegnazione del cavallo Quando arriva a stalla Alle cene Alle prove Cioè c'è un'atmosfera che Il palio è unico Non c'è altre manifestazioni come quello E te con salta ostacoli la vivi mai Un'emozione del genere? No È difficile Molto molto difficile Questa è una cosa Che anche noi diciamo Ne siamo affascinati Anche se è un mondo completamente diverso È una tradizione incredibile Lo seguiamo con passione No il nostro è più Ce n'è così tante competizioni Spesso ce n'è una settimana Quindi Madonna Lì invece vivono per tutto l'anno Per un'unica competizione Due sono Ora sono due no? Ora sono due Sempre stati due Ah sempre stati due Due luglio e 16 agosto Ok ok Quindi non c'è tensione Diciamo noi lo viviamo più Come un lavoro costante Un lavoro continuo A volte non è proprio importante la vittoria Ma essere costanti Un lavoro con i cavalli Una regolarità No no Sono due mondi completamente diversi Esattamente diversi dai Ok Ma come fai sempre a mantenere lo stesso rapporto di fiducia col cavallo Con così tante gare Così tante Cioè come si tratta un animale del genere? Allora Per quanto riguarda i saltostagoli Non c'è un rapporto di fiducia Ce lo dico chiaramente Il cavallo è un atleta Tu sei un atleta Quindi tu devi prepararlo in quanto tale Il rapporto non è il classico rapporto tra una persona e un cane È un rapporto un po' più distaccato Proprio va trattato da atleta E poi lui renderà da tale Quindi è un rapporto un po' più distaccato da questo punto di vista E poi diciamo Ci sono cavalli per tante categorie diverse Quindi tu spesso escuderia dei cavalli che ti performano per le gare più importanti Per i gran premi Poi ci sono i cosiddetti cavalli secondari Che tu porti pure in concorso per fare crescere Per fare abituare a questo tipo di gare Per poi portarli avanti Quindi ogni cavallo è per ogni singola categoria Che poi può migliorare o meno Quindi questo è Io poi riguardo sempre al palio Ho sentito delle storie veramente assurde Tipo ma è vero che prima del palio viene portato in chiesa Da benedizione sì È bellissimo Come funziona? Funziona che ogni contrada Il giorno del palio Verso le due, due e mezzo Tutta la contrada aioli C'è il prete C'è aprono la chiesa Stendano tutti i tappeti Perché il cavallo non scivoli Il cavallo viene portato dentro dal barbaresco Che è colui che segue il cavallo nei tre giorni Di palio E io Il fantino e il capitano Poi tengono il cavallo Davanti al prete Il prete Dice la sua preghiera E poi Dice Cavallo Dice il nome Vai Torna vincitore È un'emozione impressionante Perché Dà la benedizione Prima di andare In corsa Ho capito Sì È veramente Come ti dicevo prima dell'intervista È veramente difficile Da capire Per una persona all'esterno Sì perché Non è semplice Perché c'è tante dinamiche Ti ho detto Che uno Che non riesce Mai a capire un po' Il dietro È come se te vedi Un quadro Una facciata Ma non so quanto Ci hanno lavorato dietro E questa è la stessa cosa Però c'è tante sfaccettature Perché È una cosa che uno Magari una volta Ma una volta Se la vede Poi riesce a capire Il lavoro che c'è dietro Insomma E invece qual è la parte Più pericolosa Del tuo lavoro No pericolosa Pericolosa è la corsa Ma alla fine Non è una cosa che Almeno io Non penso al pericolo Penso che Tante volte Dico Penso tra me Dico Io sono arrivato Ora Ho vinto 5 pagli Ne ho fatti 27-28 E tutto il resto Mi sento sempre bene Sto bene E tante volte Dico Quando le persone Dicono Eh ma però Il pagli è rischioso Ma il rischio mio Più grosso Sarà quello Di un correre più Cioè quando smetterò Cioè a me Mi darà molta più noia Vedere gli altri E corrano Io non corro più E lo corro ora Perché Per te è proprio Una ragione di vita Correre No per me È una bella emozione Per me È salcana Per correre L'emozione Da arrivare primo Di vincere Cioè quella è un'emozione Un te la dà altro Nella vita E poi quando ha provato Il vincere Quello no Sai Che ha sempre parola Di riprovarla poi E quando smetti Forse se non la riprovi più È come Sì È come quando un calciatore Arriva A fine carriera Non ha più l'età Per giocare Ma vuole giocare A tutti i costi Perché vuole sentire Lo stadio I tifosi Perché tutto all'insieme No Poi questo Diciamo E poi ti spinge La passione La voglia E tutto il resto Proprio quando ha provato Certe emozioni Io sono fortunato Perché l'ho provato E tanti l'hanno provato Però dopo ti ci abitui Sempre così Ma non è mai paura Tipo quando ti cade il cavallo Cade te Ma sai Ti ho detto Non ci pensi Cioè almeno a me Mi capita Se io non ci penso E non ci penso E il mio obiettivo È vincere Boh Ok Ma io penso Sia un po' Tutti di sport uguale Che poi Dopo quando ti cambia La mentalità E pensi A farti male Pensi altre cose Penso dopo Insomma È il momento Devi stare a casa Io quando Lo vedevo in televisione Una volta da piccolo Sono anche venuto E Non riesco A comprendere Come non si possa Avere paura Durante una gara Del genere Perché soprattutto Durante quelle curve Tutti appiccicati così E boh Fa veramente impressione È come se chiede A un paracadutista Perché non ha paura Cioè Secondo me È la stessa cosa Ok E invece la parte più difficile Del tuo lavoro Qual è? Avere sempre i cavalli pronti Per le competizioni Avere sempre i cavalli allenati Perfettamente Scegliere i momenti giusti Perché comunque Sono animali Hanno dei periodi dell'anno Dove sono in calo Dove sono anche Magari Quei periodi Dove sono più in forma Ecco È la costanza Tenere un cavallo Sempre per tutte le stagioni Pronto a qualsiasi competizione Questa è la cosa più difficile E poi a giorni d'oggi È anche quello di trovare Dei cavalli Veramente competitivi Se li vuoi comprare Ci vogliono tantissimi soldi Ti pagano già pronti Oppure devi comprarli Molto giovani E devi spendere tanto tempo Per prepararli Per quelle competizioni Questa d'oggi È la difficoltà più grande Per quanto riguarda Fare il cavaliere Ok Ma io penso sia un po' Tutte le discipline Perché anche nel nostro lavoro Per addestrare un cavallo Per la provincia Per farli Per il canape Per portarlo Insegnare Ma che anni li prendete voi? No Allora I nostri cavalli A quattro anni Possano iniziare a fare qualche corsa Dopo che hanno compiuto quattro anni Però poi effettivamente Possano iniziare a correre da cinque anni E prima non possono fare nulla? Sì fanno le regolari Fanno le regolari Basta Però non fanno altro E poi il cavallo da paglio Inizia a cinque anni A andare a correre in provincia E tutto Però anche lì ci vuole Un'attitudine Come suoi C'è un'attitudine Di testa Il cavallo deve essere Un'attitudine A livello muscolare Di fisico Perché ci deve essere Anche Cioè tante le cose Non è detto E te lavori su un cavallo E poi c'hai il massimo Di risultato C'è di lavorare su un cavallo E c'è il minimo di risultato Quindi Questo è un po' Un indovinare Uno cerca Una situazione Un cavallo Che abbia requisiti Massimi Per far quello In tutte le discipline Nel salto Nella monta americana Nelle corse Quei ti pare Poi dopo Dei venire Dei vedere Se per queste specialità Ci viene Non è detto E si adatti Al mille per mille Magari un cavallo buono Per fare determinate cose E altre no Ho capito Ma cosa differenzia Un cavallo A parte la linea di sangue E tutto il resto Che cosa lo differenzia Cioè qual è un cavallo Buono Come lo intendite Rispetto a un cavallo Che invece non è Non è adatto Nel nostro lavoro Nel nostro lavoro Vabbè ci vuole la qualità Perché senza la qualità Come in tutte le cose Non c'è la qualità Cioè linea di sangue Fisicamente adatti Però la nostra differenza Tanto È la testa Cioè su un cavallo Che Ha un potenziale Dieci Che galoppa Va bene Parte Galoppa Corri La differenza La testa È quella Che ti fa la differenza Perché un cavallo Senza testa Che magari si scalda Perde la testa Non ci ragione Ci fa poco o niente Un cavallo invece rimane Un cavallo Intelligente Sereno Concentrato E tutto Ti dà la possibilità Di vincere Ok Io non ho idea Di come lo si possa Riconoscere Un cavallo Sereno Un cavallo Che abbia testa Come fa Ma è come un po' Nelle persone Addirittura Molto a livello Dell'istinto Secondo me Non c'è proprio Una legge scritta Non ci sono dei parametri I tali Secondo me Nel suo caso È ancora più difficile Perché quei cavalli Devono essere pronti A fare Quell'unica corsa Quindi magari Loro fanno Una preparazione tale E poi hanno sempre Quel punto interrogativo Nel mio caso Magari tu riesci Ad accorgertene prima Perché fai tanti eventi Quindi già Provi quel cavallo Sotto Lo stress massimo Che è la competizione E invece Magari nel suo caso Non è così Perché Ma anche noi Si corre quasi sempre Perché ora Parte il paglio Però c'è Cioè Ora Anche il discorso Della preparazione Del cavallo D'appaglio Contiene Un protocollo Grande Dove c'è Dei veterinari Che accettano Il cavallo A un protocollo Di Siena Quindi se sono accettati Il protocollo Deve fare delle corse Per arrivare Per arrivare Avanti Sì sì Per arrivare Cioè Quindi c'è La situazione Cioè è tutto Ben costruito Però anche lì Anche essendo Poi dipende dal cavallo Se ti mette Se ti mette Nella situazione Di poter correre O no Insomma Ho capito Io poi Riesco a capire Difficilmente Il principio Della tradizione Di atrapalodizia Perché come ogni tradizione Ci girano Intorno Tante polemiche Tutte polemiche Poi legate Alla tradizione Dico come la corrida Però insomma C'è C'è I cavalli Che rischiano Eccetera Ti cosa ne pensi Di questa cosa qua Ma io penso Che è un po' In tutti gli sport Il rischio E tutto il resto Però nel senso Penso che Il cavallo Da noi In tutti gli sport Specialmente Anche nel nostro Perché poi alla fine Ci sa Tutti i tipi di doping Tutte le cose Cavalli Chiunque può sempre Venire a vedere scuderi Anzi sarebbe meglio Venire a vedere Un po' Il cavallo E vedere come li tengo Anche quelli che chiacchierano Tanto per chiacchierare Poi sai Il mondo è bello Perché è vario Poi ti ho detto È facile vedere Se vedi il paglio C'è un cavallo Si fa male Ma guarda Questi che sono andato a fare Non è così in effetti Perché noi si dà Tutto il massimo Cioè noi Quello non riescano A capire le persone Che se noi abbiamo Un cavallo Che viene per questa Corsa E viene per fare Questo lavoro Cioè noi ce lo teniamo Più strinto Il massimo possibile Perché non è È semplice Cioè magari Ne provi cinque E ne viene due Che riescano a fare Fuori classe Per questo lavoro Quindi non è semplice Quando capita Ancora più Te ne devi tenere di conto Di queste situazioni Ok Quindi ti dici Che è difficile Trovare dei cavalli Adatti al proprio di Siena Ma no Non dico che è difficile Io ti dico È difficile trovare Il fuori classe Poi c'è tanti cavalli Come le persone È difficile trovare Il fuori classe Come chi fa il calciatore Come chi fa Tutti gli sport Però se ti vuoi fuori classe È regolare Che non è facilissimo Insomma Ok Che cosa ne pensi Di questo Ren Io Non metto in dubbio Per come Vengono trattati i cavalli Cioè su questo Ne sono convinto Io diciamo Rimango sempre Un po' Così Col punto interrogativo Proprio per la corsa In sé È molto pericoloso Il tracciato Per l'animale Dici? Sì Un po' per tutti Il tipo di tracciato Il fatto di montare appello Appello Vuol dire senza sella La tradizione è tradizione Io rispetto tutto Però quella Io Diciamo Prova a mettermi nei panni Di chi Non ne capisce nulla Vede Quel tracciato lì Squadrato Con gli angoli E tutto Cioè secondo me Questo ti fa un po' pensare Non lo so Dimmi la tua Io parlo Come se fossi Una persona Che è la realtà Non ne capisce niente Ti dico la verità Il problema Savalè È che Il paglio Come tanti pagli Viene mandato un'onda Quella volta lì E basta Perché se Mandassero un'onda Tutte le discipline Con i cavalli Cioè le corse all'ippodrome Ne vedi uno tutti i giorni E si fa male O tutte le volte Assolutamente Assolutamente Vedite I saltaostacoli C'è tanti cavalli Cascano di là Dall'ostacolo Rimangano Capito C'è tante Perché il paglio di Siena Purtroppo si vede Due volte l'anno E due volte È facile È super visto Però magari sai Quel tracciato lì Con quegli angoli I cavalli senza nessuna protezione No aspetta Però ti dico una cosa I cavalli Poi ci sta Che si facciano male Come da tutte le parti Però I cavalli che vanno a correre lì Sono cavalli che Il comune di Siena Ha predisposto Due piste uguali a quelle A Siena Per farcela abituare Quindi non sono cavalli Ah ok No cavolo Ma lì non è Non è una cosa fatta Tanto per fare Ti ho detto C'è un protocollo Dove i cavalli corrano Dove ci sono Delle piste In cui i cavalli Si preparano E sono uguali a quella Quindi i cavalli Già sapetono C'è un affiatamento La pista Quindi non è che ci arrivi Nella prima volta Se no ti darei ragione Però sono cavalli Abituati a fare Quei tracciati E quelle curve E tutto il resto E poi guarda che In provincia In provincia del Corriamo Non c'è altro Il paglio di Siena Diciamo è l'apice Come essere in serie A Poi ci sono anche Pagli di serie B E serie C Che sono sempre pagli Importanti Però ci hanno sempre Curve impegnative E terreni impegnativi Insomma C'è tante manifestazioni Che sono in provincia E dove corrono cavalli simili Insomma Ho capito Beh È veramente Strano Tutto strano Io Non so come Non saprei come Anche a me fa paura Anche il disco Ma più C'è anche il discorso Del cavallo Però c'è anche il discorso Umano C'è il fatto che Se un fantino perde O succede qualcosa Ti vengono a inseguire Ti vengono a cercare Ti vogliono morto Cioè questa roba qui Mi fa stra paura Cioè come fai A viverla bene Vabbè ma non è che Ora avresti Sì Magari prima Era tante volte Sì Tante volte Magari si sente Nelle Anche vecchie contradi Allori Ci raccontano Queste situazioni Ora magari è un po' Cambiata la situazione Però è regolare Ma io penso che sai Il senese Vuol vedere che Te metti il massimo Io non mi ho visto Di contradi O contradioli Che rincorrano Fantini Quando hanno dato il massimo Succede magari qualche volta Quando vedi il fantino Non dà il massimo O magari fa un altro Tipo di cosa E dopo se uno Se le cerca Se le deve anche aspettare Però se uno monta a cavallo Fa il suo E ci mette il suo Io non mi avviso A me mi hanno male in corso Vabbè magari a te no Certo sì Però Boh non lo so Magari se un fantino Non è in giornata Non è giusto Non seguirlo O un minacciallo Per una roba del genere Io poi sono Contro ogni forma Di violenza No vabbè ma è giusto Però ti dico D'altra parte C'è da capire un po' tutti Loro aspettano tutto l'anno Per fare una corsa Sì Lo so lo so Capito ti voglio dire Nel senso Se uno non se la sente È giusto che non corra Non è che glielo ordina Al dottore Di fare il paglio di siena Ok Soprattutto con quella pressione lì Sì è meglio Che a questo punto è Mason Corri Poi nel palio Che percentuale ha Di responsabilità Il fantino Sai Dipende Ce l'ha Come Ce l'ha Anche perché può a cavallo Ci siete Quindi è regolare Se sbagli qualcosa Devi prendere Sbagliare io penso sia umano Chi non sbaglia Non è umano Quindi Dipende Sbaglio fai Se uno È uno sbaglio Fatto come deve essere fatto È fatto apposta Nel senso Quello poi è sempre In dubbio delle persone Di questi casi Ce n'è Eh vabbè Nella storia si sentono dire Queste cose Lo sai Non è che uno si va A buttare in terra apposta Perché Lì buta Sì c'erano anche delle polemiche Sul fatto di pigliare le bustarelle Te alla performi meno Perché ti ha pagato Un'arta contrada Per 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 Vabbè Ma dai Queste sono Queste sono cose anche Io penso Se ci sono state O ci sono Penso ci siano un po' Da tutte le parti Non è soltanto Chi Ah sì vabbè C'è anche nel calcio C'è Voglio dire Certo certo Cioè Sfatiamo un mito ora Di queste cose Io penso che alla fine In tutti gli sport Ci può essere La persona Leale al 100% E la persona Leale al 25% Quindi Non è che Andiamo a scoprire niente Di nuovo No Ahimè No Anche perché È una pratica italiana E c'ha tutti C'è tutti i difetti Delle pratiche italiane Però sì Anche nel calcio In tutti gli sport C'è un sacco di corruzione L'abbiamo visto Lo continuiamo a vedere Purtroppo E Ok E vabbè Poi Anche la questione Magari da piccoli I genitori hanno portato Un contrada E vengono avanti Con la passione Del tamburo Di sbandierare Con la bandiera E te li vedi Fin da piccoli Questi bambini Si divertono E poi dopo crescendo Magari una volta Magari piano piano Li mandano in piazza E poi crescano di grado Quindi E poi arrivano A fare gli sbandieratori Cioè come te Ti sei appassionato Fin da piccino Per il cavallo Loro per la bandiera Eh Per la contrada Senta l'amore per la contrada Vengono avanti E cercano poi Di fare queste cose qui Cioè Per loro È una vita È solo lì Per loro È una bella La soddisfazione Arriva a fare questa cosa qui Ma non è che Il giorno del corteo Il giorno del paio Ci sono gli sbandieratori I tamburini Tutti E noi siamo dietro Sopra un cavallo Lo chiamano Sovrallas Perché è un cavallo grande E noi siamo sopra Monturati Cioè vestiti Dei colori della contrada Si fa il giro E poi dopo Si va dentro l'entrone Dove c'è il cavallo Ci cambiamo E poi ci si prepara per correre E questo Ogni contrada C'ha gli sbandieratori Che sbandierano Prima di noi In pratica E niente Aprono la pista Non c'è Ma invece Se si può dire Se voglia di rispondere Se non ti fa problemi Quanto prende un fantino? Cioè Qualquant'è il Per montare Ma dipende Sai È come tutti È come tutti Gli atleti È come tutti Gli sportivi C'è Quello c'ha la quotazione Da X Quello c'ha la quotazione Y Dipende da quanto Tra dove monti Se vinci Se perdi C'è tante cose Non è che uno Può fare una stima così Ah non è sempre fisso No No Non c'entra niente Ognuno È come in tutte le cose Dai Alla fine Dipende dal valore che hai Dipende dalla prestazione Che fai Dipende dalla contrada Dove monti Dipende dai rapporti che hai Dipende da tutte le cose Non è che uno Non c'è una cifra fissa No No Non esiste Come carciatori Uguale a carciatori È così Ok E i cavalli invece Che prezzi hanno Ecco Come varia A seconda Per lui c'è da settesimale Tu ancora di più di me Costano Sì A cavolo Perché Che differenze ci sono Scusate Qui proprio sono totalmente In generale Sono ignorante Su questo argomento Ma qui I cavalli che costano Diciamo di più Sono quelli Quelle discipline olimpiche Ovvero salto ostacoli Dressage Questi cavalli Completo Sì 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 Però Come in tutte le cose Ci sono tante fasce di prezzo Ci sono i cavalli per cominciare E poi i cavalli per fare professionismo Per fare diciamo Gare importanti Che Arrivano a cifre pure Di milioni di euro Milioni di euro Sì Anche per il palio di Siena È così Oppure sono cifre un po' diverse Ma sai Diciamo che Se te vuoi il cavallo buono Che ha già vinto qualcosina Magari a tre o quattro anni Arrivi anche a pagarlo Da 20 a 30 mila euro Se lo vuoi Però diciamo Che è un cavallo Che C'ha un Un po' di genealogia Che è andato bene E tutto il resto Se te lo vuoi comprare Magari lo trovi anche Da 10 a 20 Un bel cavallino E va bene E poi se vuoi un cavallo Che Ti piace fisicamente Magari A corso poco Però è fisicamente Integro Ti piace Perché morfologicamente Ti piace C'è una linea di sangue buona Ci sta che lo trovi Anche con 10 mila euro Dipende un po' come sono Ecco diciamo Le cifre Sono da zero A quello Ti ho detto io Poi uno Dipende dal budget Dei soldi che hai Dipende da quanto Lo spendi Dipende dall'animale Quanto ti piace E dipende Da quello che ci vuoi fare Insomma E al paglio chi vince La genealogia O l'allenamento Al paglio vince Chi è più predisposto Mentalmente Cioè Te l'ho detto prima Vincere Quello che ha un po' tutto E riesce a metterlo in piazza Ci sono quindi cavalli Che magari Sono costati poco A voglia Al paglio si A voglia Al paglio si Al paglio ci sono cavalli Che magari Hanno battuto Un cavallo Che magari è stato Anche comprato Per due lire Ma non perché Perché magari All'ippodromo era Come dicono Tanti un brocco È arrivato Un piazza del campo Che ha dimostrato Ad averci la testa La qualità Per fare quel lavoro Magari un cavallo svelto Che riesce a partire In testa E dopo non ti passano E quello magari È stato un cavallo Ecco questo Da noi non capita Ah non capita Ma scusa Come si fa A capire Cioè Ti vedi un cavallo Come fai a capire Ok questo è un cavallo buono Dalla muscolatura No vabbè Un cavallo buono Nel senso Dipende per quello Che lo vuoi Ok Ci sono delle regolari Che dove te I cavalli corano Te lo vedi Se un cavallo In mezzo Un altro Che vince E gli altri Non vincano Però poi per il mio lavoro Per il padio Per le corse in provincia Ci sono magari cavalli Che sono belli Brillanti A mettersi sulle gambe Cioè sono svelti Quindi per il nostro lavoro È importante Lo vedi subito Comunque Sì Lo vedi subito Se poi morfologicamente Sono anche fatti In una determinata maniera Ti piacciono E tutto il resto Quello poi dipende Un po' dall'occhio Della persona Da come va il cavallo E tutto E dipende da quello Uno ci può tirare fuori Infatti A proposito Dell'occhio della persona Cioè te sei il fantino Ma che struttura c'è Dietro Cioè c'è anche lì Un produttore Una sorta di procuratore No Dietro a me dici Sì sì No 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 Dietro a te Cioè chi ti ingaggia A te La contrada La contrada Ah è proprio Allora La contrada è fatta così C'è un capitano Che Il capitano della contrada Il capitano Che in pratica Si occupa del palio C'ha dei consiglieri Accanto a te Che si chiamano Mangini E lui Tiene i rapporti Con i fantini Tiene i rapporti Con i fantini Quindi va in giro Durante l'anno Dai fantini Che gli riempiono Più gli occhi Che gli garbano di più E ci tiene i rapporti Poi sta a te Durante l'inverno Portare avanti Dei rapporti E poi ti ritrovi Dalla primavera Fino al palio Insomma Il cavallo Non lo scegli No Io scelgo il cavallo Però siccome il cavallo Viene assegnato Tre giorni prima Quindi te magari Se hai un po' di mercato E sei un fantino Abbastanza quotato Ti tieni i rapporti Con tre Quattro contrade Barra cinque Dipende Quante ce n'hai Quanta quotazione hai E quanta importanza hai A quel punto Poi quando danno cavalli Cerchi di andare a montare Il cavallo Ti fa arrivare La vittoria Fine E ci sono anche Degli sponsor Come nel calcio C'è la maglietta No 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 Non esiste Lì non ci si mette niente Lì c'è la contrada E basta E qui si vince Solo il premio in denaro Cioè come si guadagna E va bene È regolare Te va lì C'ha la monta A perdere Poi dopo se vinci C'hai il premio vittoria E tutto il resto Dipende un po' Però tutti i contradaioli Della contrada Pagano un protettorato E poi Via via Siccome le contradi Non è che Cioè le contradi Non vincano da tanto Le contradi che vincano Più spesso E regolari Le contradi che vincano Da tanto Ci avranno bisogno Da spendere più Rispetto a quelli Vincano sempre Insomma Ho capito Comunque da quello Che racconti Non sembra Tanto uno sport Aspetta Io ti racconto Cioè ti fa Una parentesi Leggerissima Perché poi ci sarebbe Da Sta qui a parlare Tutto il giorno Ma Ti annoierei e basta Quindi è inutile Che ti stia ragionando Ti fa Un'infarinatura Per farti capire Quello del palio Dai No no Per capire Come effettivamente Si struttura Anche un'industria Tra virgolette Del genere Perché A me sembra Più che si vada Sulla passione Contrada Quella Quella è un'altra cosa Quella è un'altra cosa Quelli Corrano il palio Chi scrive il cavallo È un proprietario Dei cavalli Una persona Chiunque Possono essere persone Di qualche contrada Che magari Due o tre persone Comprano un cavallo E lo danno a un fantino E poi scrivono il cavallo Ognuno può fare quello Che vuole Nel senso E poi la contrada È Quella che Sceglie il fantino Per farlo correre Non c'entra niente Poi ho cavalli Ah ecco ecco Ho capito Ho capito Si ma non sapevo Assolutamente niente Quindi in un certo senso Paragonandolo Agli sport Più tradizionali Sono i proprietari Dei cavalli Gli sponsor Tra virgolette Che mettono Il cavallo A disposizione Della contrada E questa è sempre La passione Ok La passione Perché Il proprietario Di cavallo D'appaglio Ha piacere Che il proprio cavallo Cora Perché per loro È una gioia immensa Vedere il cavallo Ti corre il Paglio di Siena Specialmente per un senese Averci il cavallo E corre lì È una gioia immensa Sempre Sempre per Per la gioia Di vederlo correre Certo Sì È tutto legato Sempre a questa ossessione Incredibile E Bene Ok Punto su Zenzero No Zenzero Era un pony Ragazzi Quindi ci sono però Pali su dei poni O comunque pali Un pochino più particolari Sì Ci fanno anche delle corse All'ippodromo Per i bimbi Con pony Ah sì 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 Ora pony Mezze cavalline Però li fanno Sì 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 Ok E gli altri pali In Italia Quali sono Un po' meno famosi No no Insomma Sono sempre Pagli abbastanza Però diciamo Il paglio di Siena È quello che esalta di più Il top C'è il paglio di Fucecchio Che è qui vicino C'è il paglio di Legnano Paglio di Asti Ci sono pagli abbastanza Poi ci sono un po' Sparsi un po' Per tutto il mondo Cioè per tutta Italia Dai alla fine C'è tantissime corsette Durante l'anno C'è un calendario Però pagli più grossi Insomma sono questi lì Ok E poi voi fate Una domanda Veramente scema Perché io Da ragazzo Vedevo sempre Il palio in televisione E quando c'era C'era tutta questa attesa Per l'allineamento Dei cavalli Sì Poi la corsa Durava in realtà Pochissimo Rispetto all'allineamento Ecco Mi spieghi Perché c'è così tanta difficoltà Per i cavalli Che sono agitati Perché hanno difficoltà Tutti a indirizzarsi Allora Quella non è difficoltà Perché Non so se sai Che c'è anche Delle contrade rivali A Siena No Ecco Allora C'è diverse contrade rivali Quindi Una rivale Vuole non vincere l'altra E viceversa Quindi dipende L'allineamento al canopy Ma se c'è una rivale Dei rincorsa E l'altra tra canopy E regolare Sarà difficilissimo Partire Finché la rivale Che non è tra canopy Non si muove O quello E la coglie in fragrante Capito Ti voglio dire E quindi È un gioco E questo qui Uno va lì Un po' su nervi Delle persone Sulla situazione Poi ci sono anche Ci sono delle contrade Che c'è delle alleanze Fra contrade Proprio dalle alleanze storiche Quindi ci sarà La contrada X Che non vuol far vincere quello La contrada X Gli va meglio A vincere quell'altra Poi ci sono fantini Che hanno alleanze Dei fantini senza Se chi è Ti fa per dire Questa è tutta la confusione Che avviene In quei tempi del cannafe Cioè Quindi praticamente È tutto un gioco psicologico Per stressare il fantino Stressare il cavallo E cercare di Il paglio è anche questo Infatti l'ho detto prima Il paglio è È talmente difficile Per quello Non è soltanto Il montare a cavallo È tutta la situazione Ci gira Psicologica Vabbè È come il trash talking Nel basket Che offendi continuamente Il giocatore Che ti sta pressando Per farlo crollare Fagli rispondere Farlo crollare emotivamente Ma te mi è successo A voglia A voglia E come la vivi Ti è una roba del genere Ma la sai Io ti dico la verità La so abbastanza tranquillo Io sono tipo Quando sono a cavallo C'ho da pensare Quello che devo fare Quindi Però ti capita Tante volte Che le Contra dei rivali Insomma Ti offendano Capita dai Alla fine No no Chiaro Chiaro Però volevo capire Qual era l'atteggiamento Più comune Cioè ti pressano col cavallo Ti mandano a fanculo Eh a voglia Tutto Non l'ho già detto te Che ansia Veramente Sì E ti rispondi Anche te vai giù Vabbè sai Te devi cercare di fare Te sei lì per fare il tuo Se no te fa il gioco Degli altri Poi se Se riesci Deve riuscire A essere più lucido possibile Anche perché poi Se perdi la partenza E dopo Il paglio l'ha perso Insomma Quindi l'importante È essere lucidi E essere Liberi di mente Per arrivare All'obiettivo E al risultato Ok Secondo te Prima o poi Il paglio finirà? Cioè secondo te Qualcuno mai Lo vieterà? Ma io Io Per come vedo La passione De senesi E tutto il resto È parecchio difficile Parecchio difficile Sì Perché Insomma Loro Per loro È come se te Ti levano Qualcosa di Che vivi tutti i giorni Questo Per Siena E questo Il paglio Cioè ma loro Veramente tutti i giorni Parlano del paglio Anche in periodi Ma sì Ma loro tutti i giorni Magari C'è tutti Magari C'è Contrade Tutte le settimane Fanno un cenino E c'è Che ne so Cento Duecento Sono incontrate C'è un cinquanta Duecento Trecento persone Tutte insieme Parla di paglio Mangiano insieme Tutte le contrade Hanno un bar La sera magari Va lì Prendono il caffè Si ritrovano Fanno chiacchiere Questa è la famiglia Delle contrade Insomma No no Chiaro Chiaro Ti ripeto Cioè Magari Ti fa per dire Le persone Qui In tante città C'è la Vanno a fare l'aperitivo E escano E magari le persone Invece a Siena Vanno a prendere Vanno a contrade A prendere il caffè O magari a fare Un aperitivo E bello è fatto Capito Parlano di paglio Di cavalli Eh questo Insomma Delle previsioni Per il prossimo paglio Bravo Poi più ci si avvicina Al paglio E più Si scalda la situazione Quindi è così Beh è capitato Anche che delle contrade Si incontrino Per rompersi Oioni Per fronteggiarsi Certe volte Eh vabbè È regolare Regolare Sempre Tutto regolare È regolare Dai Ma se lo vedi Nel calcio Non fanno uguale No lo so Lo so Capisco E che per me È inconcepibile Sia nel paglio Che nel calcio Per me È giusto Che sia inconcepibile Anche per me Tante volte Però d'altra parte Il mondo è bello Perché è vario Senza dubbio Senza dubbio No io non seguo nessuno sport Quindi io non ho mai avuto Un tifo Così accalorato Per Ho le mie passioni Va bene Regolare Però non Non Mi fa Mi fa fatica E E anche Però da piccolo La sentivo Quando l'unico palio A cui ho partecipato Proprio da Da bimbo Lì in persona a Siena Si sentiva Una tensione Molto molto palpabile La voglia E vabbè Intanto raccomando i mod Se vogliono far entrare I I primi interventisti Si va Te sei mai stato al palio Varenne Sì Come l'hai vissuta te invece Ma perché lo chiamo Varenne Io lo chiamo Varenne Perché lo conosco Io do sempre dei soprannomi Ecco Questa storia dei soprannomi Eccoci Ecco Perché vi danno i soprannomi Questa è una cosa incredibile Perché io sono fissato Quei soprannomi Quindi l'amo Questa roba Allora Il discorso è questo Quando te Il soprannome te lo danno Quando ti butti Fai il primo palio Il capitano La sera Funziona così Che la sera prima del palio Si chiama C'è la sera della prova generale Dove viene fatta la prova in piazza Con il cavallo e tutto E poi c'è la scena della prova generale Sarebbe la scena subito dopo la prova E c'è il capitano Che fa il discorso Prima lo fa il priore Che sarebbe il capo della contrada Poi il capitano è quello Che si interessa del palio della contrada E dopo ragioni te E nel momento in cui lo fa il capitano Quando ti debuti Dice il capitano Il capitano parla E dice Allora il tuo soprannome Da ora in poi sarà questo E quello ti rimane tutta la vita Non è che lo può cambiare Ma in base a cosa te lo danno? In base a cosa Agli ispiri A cosa Tipo te stai scompiglio Perché hanno deciso I soprannominati così? Perché io ho un po' Questo carattere Che sono un po' Così Che scompiglio Così come? Scompiglio mi sta bene C'è un carattere un po' fumino Un po' così Dai E il capitano Siccome andò così La situazione mia Che Che si arriva la sera Della prova generale Dove il capitano Fa il discorso E dice Allora il tuo nome Sarà scompiglio Perché domani Devi scompigliare il palio Perché era un palio Dove c'era due o tre accoppiati Contrate forti Con due o tre contrade forti E fantini forti Con il cavallo giusto E sembrava già fatto Per queste contrade E allora mi disse Te vai e scompiglia E cerca di vincere Insomma E questo diventa scompiglio E come andò quel palio? Vinzi Ah si è? Debutto Vinzi Sì Madonna Già il debutto Incredibile Quanti anni avevi? 26 Mamma mia E l'hai scompigliato E da lì Sei rimasto scompiglio E quello che aveva Trovare N Perché mi aveva detto Questa cosa È dei cavalli L'unico cavallo Che conoscevo È Barenne Appunto Falzalto c'è Barenne Il trottatore Eh sì Io sapevo una segra La differenza Nell'ostacolo Il trottatore Eccetera Secondo te Qual è stato Il cavallo più forte Del palio di Siena? No Ce ne sono stati tanti Però sapevo Il discorso Ce ne sono stati tanti I cavalli Che si sono ripetuti Hanno vinto e tutto Però è cambiato Anche un pochino I tempi Cioè Prima era un altro palio Ora un palio diverso Io penso che ogni era Un po' ha fatto su cavalli Su palio e tutto Che differenze ci sono Tra il palio di un tempo E il palio di adesso? Vabbè Sai Se senti i fantini vecchi Cioè i fantini Che hanno finito di correre Dice prima era meglio Perché c'era più fantini Ora sono più fantini Però io penso Ogni palio è bello Perché è sempre un palio diverso E penso che Allora Riguarda cavalli Ora c'è molta più attenzione Rispetto a prima Ora seguono Di un protocollo importante Delle visite accuteratissime Delle situazioni Magari prima Non è che non c'era Però è come tutte le cose Te guardi Come si sono evolute Da dieci anni A questa parte O venti Quindi anche il palio Si è dovuto messe Meglio così Sì molto meglio Sì che Questa è la prima cosa Che è cambiata E poi è cambiato Diciamo che ora C'è più professionismo Secondo me A livello un attimino Di tante cose Perché magari Tanti fantini Prima c'era due o tre Fantini Buoni Che si preparavano E salivano per queste Magari Tanti fantini Magari facevano un altro lavoro E poi arrivavano lì Magari montavano un po' a cavallo E poi arrivavano a fare il palio Ora diciamo C'è un più professionismo Perché Quelli che si fa questo Lavoro Questo mestiere Si lavora tutto l'anno Per questo Cioè non è che ci sa Un altro lavoro Si fa altre cose E diciamo che Uno dei primi A fare questa cosa qui È stato Andrea De Cortes Detta Ceto A Ceto Si me lo nominano sempre tutti Si che quello ha vinto più Pagli di tutti Quindi alla fine Lui ha iniziato un po' A dare là A questa situazione Di essere Un fantino A tutto tondo Per far il palio di Siena E poi di lì Piano 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 Tutte le cose sono venute avanti E siamo arrivati a questa forma Di professionismo Che c'è oggi Ok Ma in che anni Correva Ceto? A corso fino L'ultimo palio L'ultimo palio L'ha vinto Aveva 50 E passa anni Madonna L'ultimo palio Sì Fin dagli anni 90 Io L'unica cosa Che ho ritrovato Vicina Sempre in Toscana Al palio di Siena Anche sentendoti parlare Che sembra che Non c'entri nulla Ma secondo me La città La viva Alla stessa Identica maniera È il carnevale Di Viareggio Perché i carrettisti Parlano sempre Dei carri E pensano solo Al carro Dell'anno prossimo Io ci sono massato una volta A Via Reggio Ti dà la verità Ma l'atmosfera L'ho visto da video Da filmati Però poi ci sono massato C'è una pratica Completamente Però anche lì Loro tutto il giorno Pensano Hanno paura Di copiarsi i carretti A vicenda C'è questo concorso Pensano solo a quello Per tutto l'anno Vivono per quel giorno lì È un po' come il palio Secondo me È un'altra roba toscana Infatti Molto campanilistica Secondo me Il palio è frutto Del campanilismo toscano Che è probabilmente Uno dei più accesi Sì sì D'Italia Anche vedendo la rivalità Tra province La cattiveria Già Tappi Salivorno Per esempio Si nota parecchio Allora Se c'è già qualche Interventista Fate pure Metteteli pure Cari mod Sì Eccoci Buonasera Buonasera E vi dovete mettere le cuffie Così almeno Vado? Sì 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 prego Ok Ciao buonasera Allora premetto Che sono ignorante In tema di palio Ah ma sono tutti ignoranti Tranne loro qui Quindi vai tranquilli Semplicemente Una buona dose Di curiosità Quindi Parlo un po' Per sentito dire La mia ricomanda Riguarda Il Diciamo I momenti Poco prima Della partenza Quando I vari Fantini Diciamo Cercano Cercano Di Mettersi In linea Eh sì A quanto so In quei momenti Concitati Avvengono Delle trattative Avvengono Dei segnali Non so In cui ci si cerca Di Si cercano Degli accordi Diciamo Per far vincere O non far vincere Una determinata contrada Sì abbiamo accennato Volevo sapere Se Questa cosa è vera Quali cifre girano Riguardo Come avviene Perché da quello che so Per esempio Per il Paglio di Siena Non si prevede Un premio in denaro Però ecco Da quel che so I senesi Tirano fuori Belle cifre Prego Allora Vabbè Il momento della mossa Il momento della mossa Dipende Ho detto prima Dalle contrade che ci sono Per il fatto Dell'arrivalità E tutto Perché questa è la prima Poi dipende Da che contrade ci sono Vincenti Che a quel punto Lo vedi Lo vedi dal giorno Della tratta Il cavallo vincente A chi tocca Quindi così Poi dipende Dal posto al canna Perché ci sono dei posti In cui è più facilitata La vittoria E meno facilitata La vittoria In base a quello Che ha detto Delle cifre E dei soldi Dipende Le contrade Cosa hanno a disposizione Il fantino Cosa ha a disposizione Per vincere il palio E per arrivare Alla vittoria Cioè non è che È per tutti uguale O c'è una situazione In cui te Ci avresti Di routine Come un mensile Te va a lavorare Dici Ti hanno X E poi ci fai quello E ti pare No La contrada Ti dice C'è un budget E te In base a questo budget Ma finché non arrivi lì Non lo sai Cioè nel senso Non è una cosa Prestabilità Ok Comunque Di che cifre parliamo Cioè parliamo Di Tucci Non vincanto Oppure parliamo Nell'ordine Delle centinaia Di migliaia di euro Ma no Dipende Ti ho detto Dipende dalle contrade Cioè C'è contrade più grosse Dove spendono di più E contrade E poi dipende E contrade più piccole Spendono di meno Però dipende Che l'ho detto prima Se una contrada Ha vinto di recente E ha già speso Un po' di soldi Se una contrada È tanta Che non vince Cioè Nel senso Il palio È un È una giostra Dove È tutto imprevedibile È tutto imprevisto Non è che Te hai una cosa sicura Finché non salire Non le vedi le cose Quindi non puoi avere Un budget O una linea Da seguire Per arrivare Alla vittoria Insomma Capace Ci sono persone Contrade Che hanno speso Centinaia di migliaia di euro E poi perdono Clamorosamente Perché Sì La posizione magari Era più favorevole Invece ha vinto il cavallo Era in posizione Meno favorevole Capito E questa è tanto la situazione E poi tanto lì Cioè Nel senso Le parole spese Tutto il resto Contano a livello Finché Quando vinci Perché tanto Finché Se non ha vinto Non contano niente Perché Alla fine Te spendi soldi Se poi vinci Se no Non prende niente Nessuno Madonna Che casino Però Ma io da quanto so C'è il premio In denaro Se vinci Sì a voglia No no Ma se te vinci Nelle contrade C'è un premio In denaro Che la contrada Ti dice Prima di correre Tu premi E questo Se vincere C'è grazie Ho capito E anche lì Centinaia di migliaia di euro Dipende In che contrada sei Cioè magari La contrada può spendere di più E quella può spendere di meno Non è detto Insomma Ecco È come le squadre di calcio È uguale È la stessa cosa Che hanno un budget Sì ora Non a livelli di calciatori No no Non ci pensiamo neanche Cioè I discorsi poi Ce ne è tanti Poi la verità Su altri Insomma Ok Ci sei ancora? Sì 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 Ci sono Posso fare un'altra domanda? Sì sì Se vuoi Sì Dio voglia Ma mi sai Di cifre Non ne scopriremo facilmente Qui eh Eh sì Ho capito La risposta è stata Un po' democristiana Ma va bene Proseguiamo pure Anche perché Non credo che le contrade Vogliano far sapere queste cose No ma sa qual è il discorso Che Siena è un po' gelosa Delle loro cose Quindi È notato È giusto che Certe equilibri Non si tocchino Ma no Perché È una forma di rispetto Reciproca Capito Non è che è una cosa Che uno non vuole fare Non vuole fare Però È giusto che Certe domande Rispondano alle persone addette Non alle persone Ci sono vicino Oh vabbè Io ci ho provato Eh io Io ti ho risposto Sì sì Bene Vai Aaron Prego Un'altra domandina Veloce Tra l'altro Aaron è uno Dei domandieri Viene sempre Per ogni puntata A domandare sempre Bene bene Vai vai Prego Non sono Aaron Ah non sei Aaron Eccoci Assolutamente no Ah scusa Chi sei? Vengo confuso per qualcuno Chi sei? Una volta per Sarge Una volta per Io sono Davide Ah Davide Certo È mio padre Assolutamente Famosissimo Dai Dibi Ok Volevo sapere Qual è la vostra Opinione sulle Botticelle romane Perché c'è sempre Una grande polemica Sui poveri cavalli Delle botticelle romane Sul fatto che Insomma Vengono trattati In male eccetera Da due persone Che vivono Il mondo dei cavalli Insomma Vorrei sapere La vostra opinione A riguardo Io non so niente Botticelle romane Mi dispiace Cioè? Sì No Mi dispiace Diciamo Le carrozze Ah ok Ah Le carrozze romane Scusami Non avevo capito Non sapevo Si chiamassero botticelle Sono ignorantissimo Io ti posso dire Anche la mia qua Qui lo posso dire Da profano Che per me Non dovevano Vietarle in maniera Così light Cioè bisognava andare Col pugno di ferro Cioè Non potete più Circolare Punto Invece No non potete Però insomma Sì In mezzo e mezzo Quella roba lì È tosta È tosta A me non piace Quella roba lì Però Mio parere Non so cosa ne pensate voi Sono d'accordo con te Non Il cavallo è così bello Che può fare così tante cose Che Quella sicuramente È una da evitare Assolutamente Io scusatemi Ma sono all'oscuro Sono le carrozze Sì sì No ma era all'oscuro Se è successo qualcosa Se è stato No c'è stata Una specie di Se non erro Poi correggimi Davide C'è stata una legge Che Io ero all'oscuro Scusate Non lo saprei Spiegatemi Spesso i cavalli Stanno male Si stanno male Sono accaldati Svengono per la strada Insomma Vabbè sai Ti dico la verità Non l'ho neanche mai vista Queste situazioni I cavalli svengono per la strada Magari posso capire Se una persona Si trova davanti a una scena O sì Che non è una bella scena No Quindi me lo posso immaginare Ora poi Che vengano Ma sai Questo ci vorrebbe poco A purarsi di queste cose Perché basterebbe Le persone inspetenti Andassero a fare degli accertamenti Che sono questi cavalli Mi sa che L'hanno anche fatti Ma non riescono ad essere Incisivi Eh no No Rimangono sempre un po' Il problema principale È quello delle uscite Con il caldo In estate E quant'altro Si mette il blocco Si dice che In certi orari I cavalli non devono muoversi Devono stare Però lo fanno lo stesso Eh Ci sono tantissimi Che hanno Alcuni sì Alcuni no E Molti Chiaramente Le proprietà di queste botticelle Dicono Io tratto il cavallo Meglio di Come troppo La famiglia Per me È come se fosse Il mio animale domestico Anche di più E Si fanno Diciamo tutti questi discorsi Tutte queste polemiche A riguardo Io scusami Ti interrompo un attimo Io penso che Eh A parte che Sono convinto C'è anche un rapporto Che Che va al di là Del discorso economico E tutto Però Queste sono Cioè Gli danno anche da mangiare A queste persone Non pensano O non penso Che questi cavalli Li tengano male A prescindere da tutto Però giustamente Capisco anche Una persona da fuori Che vede un cavallo Che si sviene per la strada Non sono delle belle cose Magari Sì Sarebbe giusto Magari mettere degli orari In cui Questi cavalli Certi alle due Un 40 gradi sotto il sole Giusto Non ci stiano Insomma Attaccare A una carrozza Proprio dopo Nel resto Insomma No no Queste situazioni ci sono Effettivamente E I cavalli Vengono trattati Non con le benedizioni Dei preti Ma vengono trattati Come Merce Come Insomma Non so nemmeno come definire Come merde Ecco Tutto il giorno Questo non lo so Questo non lo so No no Sì sì Ho visto Anche a Firenze Se giri è un Mezzo disastro Ecco Anche al sud È un bel casino Insomma Secondo me Lì l'eccezione È quando vengono trattati bene Quindi Meglio abolirle Questa cosa Anche secondo me Per me è così E poi c'è una domanda Che ti fa un utente Che non è riuscito A fare il provino Su Discord Per te Appena poi dare Popore una domanda Importante a Varen Non sono riuscito a partecipare Che tu sappia Quanto può essere d'aiuto Stare a contatto Con il cavallo Per un bambino Con autismo Ad alto funzionamento Essendo i cavalli Animali che percepiscono L'emotività I bambini con autismo Ad alto funzionamento Hanno problemi Nell'esprimere La propria emotività Scusate Il messaggio confuso No ma in realtà Non è troppo confuso No Io non sono molto esperto Però penso che la conoscono Tutti l'ippoterapia Questa è una pratica Diciamo che Aiuta tantissimo Questi ragazzi Che Ne trovano veramente Tanti Tanti lati positivi A stare con gli animali Specialmente col cavallo Che sembra avere Diciamo Delle capacità Maggiori Rispetto ad altri animali Per fare stare meglio Questi ragazzi Sì sì Assolutamente lo consiglio Benissimo Grazie Varen Davide Hai altre domande? No Vorrei semplicemente Puntualizzare una cosa Davide Insomma Stai andando via Stai saltando Sì ora sì Vai 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 Sì quando si parla Di ipoterapia In genere si parla Anche soprattutto Degli asini Pare che Gli asini Siano Ah non lo sapevo Tavolosi Per questo Avevo sentito di anch'io Sì sì Fighissimo Bello E E niente Posso fare un'altra domanda? Davide Ce ne hai due Ce ne hai tre Vai vai Davide Prego Prego Ok perfetto Cosa ne pensate voi Chiaramente da persone che Insomma sono a stretto contatto con i cavalli Giorno dopo giorno Del consumo della carne di cavallo Che è molto frequente in Puglia Io sono pugliese Anche Sicilia Sì Una persona che mangia un cane Ecco perché poi quando si parla di consumo di carne animale Quasi uno spettro E beh per voi che il cavallo è sacro no? Fa questo esempio qua Noi magari tracciamo la linea sul cavallo Magari in altre parti in Asia la tracciano in là O magari altre persone la tracciano un po' più vicina E considerano il cavallo E considerano il cavallo O la lepre Dai l'ho mangiata Ed è buona Anche Ahimè Quindi voi come vivete? Ma sai io ti dico la verità Io non l'ho mai mangiata Ma non la mangio per scelta Perché Non lo so Ma è una cosa mi dà noia Perché ci lavoro a contatto tutto il giorno Mangiare Poi magari per tanti Non è neanche un discorso giusto da fare Però Poi ci sto a contatto tutto il giorno Mi sembrava se ti fagli uno sprecio Fa una cosa Insomma mi fa stare serena e tranquillo Quindi per scelta non la mangio Non l'ho mai mangiata E non la mangerò neanche mai Sì 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 Poi è a livello personale Che io conosco anche gente che fa il mio lavoro Che la mangia tranquillamente Quindi Che poi è super ipocrite Perché magari mangi le mucche Che so Ben o male Sì è giusto Però Ci ho provato io A diventare vegetariano Anche vegano Mi è difficile Poi col lavoro e faccio Mi fa ma mazzerebbe Cioè il lavoro e mi fa Mi fa C'è una celleria? No c'è un ristorante Però è specializzato in carne Quindi è un disastro Epocale Però Mi piacerebbe Dico la verità Va bene Davide Ti ringrazio Grazie Ciao Ciao bello Grazie mille Davide Poi c'è un Ragazzi Non sono riuscito a fare in tempo Per il discord Dio buono ragazzi Ma vabbè ti tolè tre Comunque Qualcuno può chiedere a scompiglio Gli lo chiedo io Sono io Il presentatore di questa cosa La cosa più strana Che gli è successa Durante una mossa E quale cavallo Avrebbe voluto montare Anche cavalli del passato Allora Cosa che Più Non ha detto più No non è venuto al WDG Scompiglio Quindi non ha È il mio ristorante No I cavalli avrei voluto montare Sono stati diversi Poi non ce l'hanno fatta a montarli Magari Anche cavalli del passato Che magari mi ci sarei visto Volentieri Sola perché ci avranno Tutti i revisiti E possano piacere a me E una cosa che mi è successa strana Nel 2019 Quando ho preso Un calcio al canape Che mi ha preso La tipia piena Aia Sì Maia Ho corso uguale Però c'avevo un dolore Impressionante Impressionante Mamma mia Sono ferrati C'hanno ramponi anche Mamma mia Cosa ti è successo Poi dopo Quando sei sceso Eh vabbè Non ho camminato Per qualche giorno C'era una gamba confissima Tutta nera Mi c'è rimasto Olso prosso Ma non sei rotto niente Non ho rotto no Meno male Te veramente È mai successo Un incidente del genere Simile no Però Nel mio sport Più cadi Più diventi bravo Dicono quindi Cadute tante Braccia rotte Costole Ingrinate Come caschi da cavallo Anche te hai rotto Tanta roba Io ho rotto una calavicola E basta Che comunque Insomma È già qualcosa Ecco Prego Chi c'è Prova Pronto Mai vista La chatta così Piana di senesi Eh vabbè Grazie al cazzo Raga Ma Io Ci sono delle domande Talmente senesi Che io non riesco a capire Che cosa vogliono dire Scompiglione Cos'hai provato Quando hai fatto Il cappotto Con la lupa Io pianzi tre giorni Perché so Dell'istrice Allora Contrata dell'istrice So cose Perché la contrata All'istrice All'istrice All'upa Sono rivali Ah Ok E io Vinci luglio Agosto Con la lupa Con lo stesso cavallo E per quello Lui ha detto Vabbè Il cappotto È Così poi È È una cosa straordinaria Ma tutte le volte Che vinci Tutte le volte Che vinci È una cosa straordinaria Ma cos'è il cappotto Il cappotto È vincere Con lo stesso cavallo E stessa contrata Ah Ok Luglio e agosto Tutte e due paghi Io nel 2016 Ci ho vinto Sia luglio e agosto Lo stesso cavallo E stessa contrata Ho avuto la fortuna E è andato in sorte Lo stesso cavallo E stessa contrata E ci ho vinto Ho capito Quindi una sorta di doppietta Bravo Ok Prego Ho sentito che è arrivato qualcuno Ho sentito ora la voce Sì È come mi si sente Mi si sente A voglia Vai Dimmi tutto Allora Intanto io dico subito Sono un ragazzo Della provincia di Grosseto Quindi a me Mi appassiona molto Il Palo di Siena Nonostante io sia Un esterno Anzitutto vorrei fare complimenti Davvero A Jonathan Per il bellissimo palio Che ha fatto agosto Spero non soffrenda Perché non è andata Non è andata Nel meglio dei modi Ma davvero è corso Meglio di sempre Grazie Una curiosità Stava nel fatto Che io so Che il Fantino Venne preso Il giorno della tratta Dalla Contrada Insomma dopo il Valzer Delle Monte Venne preso dalla Contrada E rimane là Con Guardia Fantini E non può assolutamente Uscire Non può Nemmeno andare a comprarsi Il pacchetto di sigarette Per paura di comunicazione Mi potrevi magari Spiegare meglio Questa situazione Allora in pratica È così Te Stai insieme a Guardia Fantini Ti vengono a prendere Dopo la tratta Cioè dopo l'assegnazione Di Cavalli Te quando ti metti d'accordo Con la contrata Dove vai Con la quale dove vai Loro ti vengono a prendere E in pratica Ti dico Nel mio caso Nel mio caso Ormai io ho tutti i rapporti Con queste contratti Mi conoscono da diverso tempo Quindi si fidano di me Non è che mi stressano Le dite né niente Però io durante il giorno A parte dopo la prova La mattina Torno a casa Mi alleno Monto a cavallo Fa la mia palestra Fa le mie cose Poi dopo ritorno a pranzo Con loro Ci hanno tutti Il loro posto Nel senso Se vanno a un tratta C'è il suo Ogni contratta C'è il loro posto E ti portano a dormire In un appartamento O una casa Con questi Guardia Fantini Stai lì con loro Mangi con loro Sei a disposizione Della dirigenza Del capitano Per qualsiasi Riunione Per qualsiasi chiacchiere E tutto il resto E fai tre giorni così Con loro E loro ti guardano Stanno con te Però nel senso Tutti i ragazzi Fino ad oggi Ve li ho trovato io Che ho avuto sempre Un bel rapporto Ci sono stato bene Dove Passi questi tre giorni Certo è regolare Ti cambia un po' Il modo di vivere Ti cambia il modo Di comportarti Però è una cosa Che devi fare Per arrivare al palio Insomma Quindi se ho capito bene Avete una scorta Che vi segue Loro si chiamano Guardia Fantino Perché stanno Tutto il giorno Con te Guardano quello E fai E ti portano Dove vogliano loro Nel senso Ma cosa temono Cioè Perché le contravversarie Ti Sì Ma non è Diciamo che ci sono Prima C'è dei Vissuti Dei ricordi Tutto il resto E lo facevano apposta Perché Fantino Prendesse raccordi Con gli altri O le contrade Ok Ora diciamo Lo fanno sempre Per lo stessa cosa Però è Diciamo Cioè c'è più Una forma Un attimino Secondo me Un po' anche più Di rispetto Ora dai Alla fine Io dove sono stato Cioè ma nessuno Mi abbia fatto Un discorso strano Oppure Forse perché magari Ci ho detto Anche il rapporto Mi conosco Mi conoscano Quindi lo sanno Mi comporto Tutto il resto Però insomma Loro sono lì Per vigilare Su di te Sono guardia Fantino E basta Ho capito Cioè più che si va avanti Ma Renna Più che si scopre Roba assurda Io veramente Non sapevo niente Di tutto questo Assurdo C'è altro Amico mio Sì guarda Se posso fare Un'altra domanda Certo Allora Dico subito A Jonathan Che io Premessa Sono un fan Di Gingillo Quindi Metto le mani avanti Vabbè Ecco voglio dire Sì ma lo volete Fa' un cazzo Per forza Ragazzi Però voglio dire Chi è Gingillo Mi dovete tradurre Ragazzi Un altro Fantino Gingillo È un Fantino Considerato Uno dei Big Insieme a Jonathan e Tittia I cosiddetti Big I Big E appunto Volevo chiedere Come vive La Tra virgolette Rivalità col Tittia Insieme magari A Gingillo Bartoletti Ma io L'avevo L'arrivalità Io penso a far Il mio Sono Non è che Sono geloso Degli altri Io penso Sempre Pensato a far Il mio Nel senso Io vi sono Arrivato Diciamo Il mio percorso È stato un po' Diverso Da loro Perché loro Sono arrivati Con un po' Più d'appoggio Rispetto a me Perché loro Sono arrivati Già con una scuola Alle spalle Che ce le ha un po' Portate Io ci sono Arrivato un po' Da solo E io Sono sempre stato Un po' Abituato A portare avanti Le mie decisioni Da me E a cercare Di farmi Un pochino Il mio futuro Pensando a me E basta Diciamo così Dai Quindi insomma Stato Non è geloso Sì A me mi gira le scatole Se non vinca A prescindere Ma vinca E vinca Non è che sto a guardare Vello l'altro Quindi Ecco Mi sto a fare grossi problemi Con quello e con quell'altro Sono onesto Ho capito No ma se posso Ecco Era più Per dire Bartoletti Contro Gingillo Non è possibile Come cosa Si è visto anche agosto Che Uno è andato Bartoletti Nella Pantera Nell'Aquila Ci andava Puscedo Non ci andava Gingillo Quindi Mi è sembrato Magari un po' Un mentalità Per battere Il Tittia Io sono Molto confuso Vabbè Tanto perché Questo si entra Ma senti Ti dico la verità Non è il fatto di Io non penso Sia anche questo Perché se Giuseppe Avesse visto Di andare a montare Un cavallo vincente Ci sarebbe andato Nel senso Non penso che Queste sia le dinamiche Chi è che rinuncia A vincere il paglio Per qualsiasi cosa Nessuno Quindi Alla fine Io penso che Al momento giusto Ognuno Fa i propri interessi E fa le proprie decisioni In base alla scelta Che vuole fare Se non dà il cavallo La contrata è tutto E ognuno Quando arriva lì Cerca di tirare A qualso mulino E andare alla vittoria Poi se uno Va da una parte Poi magari penso che Anche sui cavalli Ognuno Ha le proprie Cioè Le proprie Fissazioni Chi magari È fissato su Cavalli Si è fissato su altri E poi a quel punto Decidi di fare La scelta migliore Per te Comunque È un grande Appassionato Sto grossetano Perché Insomma Ha sparato Delle parole In codice Niente male Amico mio Pronto Posso dire Che Babbo Ho fatto Il camionista Di cavalli La vita Quindi mi ci ha portato Tante volte Ah ecco Ecco Se posso Voglio dire Grandissima Parlando proprio Di cavalli L'intuizione Che ha avuto Bartoletti Su Andai Bola Che è questo Cavallo esordiente Che Ecco Molti non le avrebbero Dato una lira Invece si è dimostrato Un grandissimo cavallo E Io Finirei Le scatole A Jonathan Che penso L'ho fatto arrabbiare No no Ma che è la piace Tanto non ho niente da fare Sono qui Voglio ringraziarlo Perché Anche perché Si dice molto Fantini Anche alle scene Di Contrada Ecco Non sappiano parlare Però A me mi è sembrato Invece che Bartoletti Sa parlare come E anche bene Grazie Ti ringrazio Ti ringrazio Allora Un saluto a tutti Saluto Maiuri Ahmed E Arde Lo devo fare Mi dispiace Va bene Sì sì Momento Rai Ci sta sempre bene Comunque Momento Saluti Compleanni Ti abbraccio forte tesoro Grazie mille L'intervento Ciao 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 Bene Prego 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 Ok Bella anche questa Intanto che aspettiamo Il prossimo intervento Come vive la sua quotidianità Scompiglio La sua passione È principalmente Fare il fantino Semplicemente godersi Il cavallo E di conseguenza Correre E come vive I momenti del palio E la gestione Delle emozioni A distanza di anni Allora La mia vita Già Abbastanza particolare Allora Vabbè La vita Diciamo che noi Come lui Nel senso Noi che lavoriamo Con i cavalli Non è che Il nostro è un lavoro Il nostro è una passione Cioè Viviamo a contatto Con il cavallo E il nostro pensiero È quello Lui andrà a casa La sera E pensa Il cavallo È da montare domani Quello magari Che ha un problema L'altro È da venire il veterinario È uguale Nel senso Il nostro non è Un lavoro Che dice Alle sei Stacco Metto le chiavi E si si vede domani No Il nostro è un lavoro E te vai a letto C'è da pensare Il cavallo È da montare Quello è andato male L'altro perché non gira Uno deve venire il veterinario Uno si sente male Allora c'è da fare Cioè Il nostro Non è un lavoro Ma è un tipo di vita Che fai Avere cavalli Avere una scuderia E avere delle responsabilità Verso cavalli Cioè È proprio la passione Che ti spinge a essere così Tante volte Io ragiono La mia compagna E lei mi dice No ma devi cercare Un po' di staccare la testa No Però E poi lei è uguale a mesi Che poi un po' Ma il cavallo Ma quel Cioè Non è Non è È un modo di È un modo di vivere È troppo difficile E Riguardo al discorso Dell'attenzione In questi anni Io Ti dico la verità Sono arrivato qui Che ho durato parecchia fatica Per arrivare Dove sono Nel senso Quindi me lo sono dovuto guadagnare Sempre a morsi Questo posto In piazza Dove sono E tutte le volte Che ci arrivo Per me è sempre un traguardo Sono onesto Quindi quando ci arrivo L'ansia Sì c'è tanta Però c'è anche tanta voglia Di arrivare E di fare bene Quindi Di eccellere Sì Nel senso L'ansia dopo dopo È una cosa che Io penso che tutti C'hanno un po' d'ansia Chi Tende Ad avere La buona volontà Di arrivare Da qualche parte No Perché hai Una prestazione da fare Da qualsiasi cosa Però dopo Ci deve essere qualcosa Che ti scatta nella testa Che ti deve dire Cavolo Ora è il mio momento Ora devo fare bene E a proposito Di stile di vita Io mi ricordo Un episodio in Giappone Con Varen Di pensare sempre al cavallo Se lo vuoi raccontare Perché per me È proprio simbolo Della tua professione Simbolo della tua devozione Al cavallo Sì Tornando al discorso di prima Quando mancò l'acqua Io da due anni Vivo al maneggio Ho una casa là Quindi 24 ore su 24 No Noi oltre al centro Collaboriamo Te lo dicevo prima Con questa clinica Di Con un amico Come io Si chiama Vincenzo Dove accogliamo Dei cavalli Che hanno dei problemi Sono in pensione Infortunati E Diciamo È un'estensione Di terreno Molto grande Dove i cavalli Li teniamo liberi Quindi Ci sono sempre problemi E in Giappone Cercavamo di risolvere I problemi Che era finita l'acqua Ounque Non si Non si dorme mai Poi con gli animali È così Non lo puoi mai sapere Però Lui ha detto bene Non stacchi mai Non c'è mai Un momento della giornata In cui non puoi pensarci È una cosa che Cambi il tuo stile di vita Completamente E ti dedica a qualcosa Quindi È così Io mi ricordo Che andavamo in giro Per i quartieri Era il tuo viaggio In Giappone E te ogni due quartieri Era il telefono Perché C'era un casino Non lo puoi ignorare Non ce la fai Non lo puoi ignorare Si parla di animali Si parla di Non sono cose Che non puoi ignorare Capito È più forte di te Ma poi ce la Ce la facesti Perché avevi individuato Una tubatura Sì Alla fine Ce l'abbiamo fatta Ma quanti cavalli Avete in totale Lì alla clinica Tra il maneggio E questa clinica Una trentina Ok Una trentina Sì Però Diciamo Qualità di gestire In maneggio È molto più semplice Sono in box Sono cavalli sportivi I cavalli liberi Causano sempre problemi Noi facciamo Il doppio della fatica Per diciamo Renderli felici E farli stare liberi Però Vogliono molte più attenzioni Ok E poi c'è anche Una domanda Di Zagrebeschi Che non ha potuto Che non ha potuto Partecipare Perché era al lavoro Alle sette Però non è completa La domanda Quindi Zagrebeschi Se vuoi completarla Fammi sapere Così te la leggo Intanto C'è qualche Qualche altra persona Su discord Pronta Pronti Eccoci Pronti Eccoci Dimmi tutto Vabbè Gabriele In arte scrivo abusivo Ciao Prima di fare la domanda Volevo fare una piccola premessa Che io abito Qui in provincia di Pisa In un paesino Che si chiama Buti Ah certo Qui dietro E Per l'appunto Buti ha un suo palio Un po' diverso Rispetto a quello di Siena Perché è fatto Con un drizzone 300 metri E tutto quanto E la mia domanda Era semplicemente questa Cioè Qual è la differenza Se l'ha vista Scompiglio Non so se ha partecipato Al palio Tra un palio più grande Come quello di Siena E uno Molto più piccolo Come quello di provincia Che vabbè Qui Buti Vienti Una fucicchio Che è stata citata prima Sono tutti i pali di zona Molto più piccoli Con molti paesini Ecco Che Gli affluiscono A vederli Ti rispondo Io penso che Non è giusto Dire il palio di Siena Io prima L'ho detto Serie A Serie B Serie C Perché Per la cassa di risonanza Che ha il palio di Siena Ma non perché gli altri Sono Un gradino Due sotto Io penso che Ogni posto È giusto Che abbia Il suo palio E quelli che hanno Nel senso Hanno tutti Un'importanza A sé stante Quindi Il palio di Buti Per voi è un palio importante È un bel palio Un bel palio E viene corso È importante Perché è il primo Dell'annata E viene corso Io non c'ho ma corso Perché lì si monta A sellino E poi diciamo Conta parecchio Anche il peso E cercano tutti i fantini Nel senso Montano tutti i fantini Abbastanza leggeri Lì È un palio a dritto Un palio che diciamo I cavalli Possono essere Anche un po' Meno addestrati Perché non hanno bisogno Di girare Perché è tutto Un salito a dritto Quindi È molto più facilitato Nel trovare cavalli È meno facilitato Perché ci sono Cavalli di qualità Molto importante Perché è una corsa Dove Lì conta molto Moltissimo La qualità E la velocità Del cavallo E basta Magari Nei pali diversi Da noi È diverso Perché conta Anche un po' Più la testa L'affidabilità Il girare E tutto Invece Da voi È un palio Dove conta La velocità E la qualità Del cavallo In sostanza Poi un fantino Sopra Ce lo cerchi di metterlo Che abbia un po' Di mestiere Ma più leggero Possibile Perché il cavallo Un salito Lo deve sentire Meno possibile E niente Il palio vostro È questo Ecco Però non è Un palio Che è Meno importante Degli altri Anzi Diciamo che Ti ho detto prima Il palio di Siena Ha la cassa Di risonanza Molto più grande Perché se va In tutto il mondo Magari con lo scanquello Con lo scanquello Di buti Ma poi Ogni palio a sé Ha la sua storia Ha le sue bellezze E le sue caratteristiche Da non sottovalutare Insomma E invece Le difficoltà più grossi Di una corsa A ostacoli Quali sono? È difficile Da spiegare Proviamoci Dipende Dal cavallo Principalmente Dal tipo di percorso Che vai a fare Noi dobbiamo Sempre cercare Di mettere il cavallo A proprio agio Nella categoria corretta Ci sono In una giornata di gare Ci sono 12-13 Categorie diverse Che vanno in base All'altezza Quindi noi In base al cavallo Che abbiamo O in base Al momento Della preparazione Dell'anno Cerchiamo di far partecipare Di far competere il cavallo Nella categoria Che più Pensiamo Possa andare bene A lui E poi È tutta questione Sempre di allenamento Ci sono cavalli Più portati Lui Con la parola qualità Che la usiamo pure noi All'interno Della parola qualità Ci sono tanti altri aspetti Come può essere La forza La velocità Perché anche a noi Serve la velocità Perché per vincere le gare Bisogna saltare E andare più veloci Possibili Quindi Sono tanti aspetti La testa è molto importante E questi sono tutti i fattori Che nel mio campo Per certi cavalli Li puoi vedere In due giorni Come a volte Non ti basta neanche un anno Cioè A me è capitato Di allenare cavalli Anche per un anno intero Scartarli Tra virgolette Cioè Pensavo che non erano adatti a me E poi magari Con qualcun altro Quei cavalli Sono rivelati dei cavalli Molto qualitativi Ho capito Quindi È molto personale la cosa Ed è così Bene C'hai altre domande? No Semplicemente vabbè Volevo sapere se Oltre a Siena Aveva notato Se magari c'era Stato un disaffezionamento Rispetto al palio O ai vari pali Che si possono trovare In giro per l'Italia Che a parer mio Nelle zone Che frequento qui Sto vedendo Ma magari Proprio perché Sono posti più piccoli So che a Siena Ovviamente non è così Perché non è per niente così Sì Soltanto questo Ma guarda Io penso che Ma io Non la penso così Perché anche Il palio di buti È parecchio nominato Dalle persone Specialmente Prima cosa Te l'ho detto prima Perché è il primo palio Della stagione Si riapre La stagione pagliesca Di tutti i pali E poi so che c'è Anche le contrade Si muovono Durante tutto Tutto l'inverno Per cercare cavalli Di qualità Cavalli importanti Insomma io penso che Sia un bel palio Un palio importante Insomma il palio di buti Non lo vedo Un palio Sotto l'attenzione Di tante persone Cioè che non danno L'attenzione alle persone Insomma Ok Perfetto Ti abbraccio Grazie mille Grazie mille Un saluto Cestino se posso Ciao Un momento Riesco a stare fermo Sullo sgabello C'è un altro Interventista Perché poi Jonathan deve Rientrare A Pistoia Quindi insomma Bisogna fargli fare Questo viaggio Notturno Vorrei lasciarlo prima Mi sa che c'è un altro Prova prova Se no vi faccio una domanda io Un'ultima domanda Così per la chiusura Ok Intanto domanda per Varen Ti sei mai sentito Intimidito Spaventato dal cavallo Da amante di questi animali Non sono mai riuscita Del tutto a superare Questo timore Nei loro confronti Sono curioso di sapere Le vostre esperienze A riguardo Effettivamente Ogni tanto il cavallo Mette Da una certa impressione Fa impressione Sì Capita spesso A chi non conosce cavallo A quei ragazzini A quei bambini Magari che Per la prima volta Vedono un cavallo Quindi è un'impressione Che ti fa Ed è del tutto lecita Io non l'ho mai avuta Per fortuna O monto Da quando ho 5 anni Praticamente Però mi è capitato Una volta Non me lo sarei mai aspettato Di montare un cavallo Un puledro Un cavallo molto giovane Con un carattere Veramente particolare Che io la mattina Arrivavo a scuderia Avevo paura di montare Cioè che non mi era mai successo Era già grande Perché ogni giorno Si cadeva a terra Però la forza Che mi dava Diciamo Per andare avanti Era il fatto Che quel cavallo Era un fenomeno E lo è tuttora Quindi ho cercato Piano piano Di andare sempre avanti E combattuto Un po' le mie paure Adesso è un cavallo Veramente competitivo Però sì Mi è capitato Anche diciamo Già da adulto Di avere paura Bene Pronto? Sì Eccoci Vai Ciao Benvenuto Sono Diego Brooklyn Volevo Buonasera a tutti Saluti alla Cring Squad Come al solito Va bene Andiamo avanti Volevo fare una domanda Al Fantino Una per te Dario Faccio mi fretta Al Fantino Volevo chiedere A Jonathan Io ho visto il palio La prima volta Nella famosa puntata Del testimone Di Pif Di 15 anni fa Ormai Ricordo che mi fece Quasi paura Tipo L'estremismo Di tutte Le persone che c'erano Cioè il cavallo Benedetto in chiesa La rivalità altissima Che c'era tra le contrade Addirittura c'era Una coppia Che stava assieme Ma durante il palio Non stava più insieme È bene Tipo Romeo e Giulietta È bene È così Il clima Diciamo che in pochi La vivevano sportivamente Era appunto Più di una religione E alcuni amici senesi All'epoca Mi confermarono Anche di risse Di verbi Tra le contrade rivali Soprattutto Che spezziamo La lancia A favore È un clima Diciamo Provinciale Che succede Cioè che Sono cose che succedono Anche in altre province D'Italia Cioè queste rivalità Lo troviamo In tantissime parti È regolare Quindi Quello Quello Che volevo sapere È che Cioè questa Questo tipo di Cosa Che importa molto Nel piccolo borgo Fuori Interessa A poca gente Il clima di violenza Diciamo Che c'era Negli ultimi 1200 anni È sicuramente Migliorato Perché c'è dal 1200 Nell'ultimo 800 anni Scusa Ma Negli ultimi 15-20 Dato che lui Corre da tanto È migliorato Si vive meglio Il palo A Sirena Negli ultimi anni Ma io Sì Dai Io ti dico la verità Io grosse Situazioni di violenza Non l'ho mai vissuta Ti dico la verità Magari quelle Che si sente dire Sono anche degli anni passati Ora sai C'è C'è molta più attenzione Nel senso Ora Le persone ci stanno Molte più attenti A fare tutte le violenze E qualcosa Però Io penso che sia Che dipenda un po' Dalle situazioni E anche dalle persone No Non è riguardante Soltanto al palio Ma è riguardante A tutti gli sport Dove c'è delle rivalità E dove c'è questo Il discorso che ha fatto prima Delle persone Moglie e marito Essendo i due contrade Specialmente Se sono contrade rivali Sì nei giorni di palio È facile Che ognuno Magari Uno dei due Si sposta E va a casa O dei genitori O di qualcuno Ma non perché Non si possono vedere Qualcosa È perché proprio loro È difficile da spiegare Però quando Una persona Vive la contrada Da quando è piccolo I giorni di palio È troppo importante Vivere la propria contrada E Loro ci tengono A non condividerlo Con altre persone Cioè Quello è troppo importante Per loro È difficile È facile da spiegare Perché guarda Io non sono contrada Io lo faccio di lavoro Con il fantino Però io ho visto L'amore che hanno Per la loro contrada E la passione Che ci mettono E Magari detta così In due secondi Può sembrare Una scemenza Ma non lo è così Cioè È proprio Su loro sono così Gli piace proprio Vivere la propria contrada Specialmente Se c'è la rivalità Tra due persone Anche se sono Cognugi O familiari È giusto che Ognuno la viva Con la propria contrada E viva i giorni di paglio Come meglio crede Insomma Quindi insomma La trovi diminuita La violenza Sì sì A voglia A voglia Ok 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 Volevo chiedere Affrontare l'elefante Nella stanza Ce lo stiamo chiedendo tutti Vai Ecco la cazzata Vai Come sta Zenzero Sta bene Sta bene Zenzero Sta bene Sei sempre lì Nella stalla Dove l'abbiamo presa L'ultima volta Grazie mille Ciao Ciao Pensavo fosse Un'azzata più grossa Meno male Allora Mi faccio un'ultima domanda Io Così almeno Ti lascio andare Alla me le ho le cuffie Sì sì Ci si può le Bravo Bel suggerimento Non si affisce niente No niente L'ultima domanda L'ha chiesto anche Zagrebeschi Che è il ragazzo Che ha voluto spezzare Ma abbiamo parlato Bene o male Zagrebeschi Del fatto che Lui segue molto Il palio di Siena È uno molto fissato E ha detto Che uno dei vantaggi Che è una delle cose Più incomprensibili Delle persone Che stanno al di fuori È quanto il paese Si accende Perché spesso In questi Perché Siena È una bellissima Città Però non è una città Metropolitana Come Roma Napoli Milano E quindi ha sempre Bisogno di attenzione E il paese si accende Si accende costantemente Sempre vivo Grazie al palio E tantissimi paesini Di conseguenza Tipo Buti Si accende Per il palio E questo Può essere interessante Anche te La vivi Un po' Questa roba Da pubblico O te Avendo la testa Solo per fare il fantino Sei un po' Più distaccato Dalla festa Di paese Rispetto alla competizione Io ti dico Quello che posso Aver capito Di Siena E dei senesi Vai Che loro Non hanno Ne la voglia Ne Di essere come Roma Milano Loro gli garba Essere così Gli garba Il suo palio Gli garba La sua passione La sua tradizione E gli garba Questa cosa Cioè nel senso Siena Non vede l'ora Che si avvicini La primavera E la stagione Del palio Delle corse Di tutto Per vivere il palio E per vedere La loro tradizione E la loro passione E basta Io la vivo da esterno Perché alla fine Non posso Essere Sì posso essere Magari con la testa Vicino a certe contradi O a certe dirigenze O a certe persone Che negli anni Mi sono state vicino E quindi Sento verso di loro Un certo valore affettivo Però poi dopo Non è che posso Essere un contradaiolo Quindi è regolare Io penso a farmi il lavoro Basta Certo poi dopo Come nella vita Ti vai avanti Ti crei dei rapporti C'ha della fiducia C'ha della stima reciproca C'hai Una certa situazione In cui te la porti Dietro nella vita Però poi da lì A essere contradaiolo Non lo potrà mai essere Bene No io Non riuscirò mai A capire questo mondo E a provarlo Purtroppo Però è comunque Stato molto affascinante Sentirlo Raccontare Perché è un mondo Quasi Fiabesco Folcloristico Che non si incontra Tutti i giorni Forse è una cosa Unica al mondo Quindi Quello è interessante Ringrazio anche Varenne Di avermi supportato In questa avventura E di avermi fornito L'idea Perché l'idea Di questa puntata Viene da Varenne Quando abbiamo conversato Del suo lavoro Perché non fa una puntata È talmente una roba Folle Che può funzionare Quindi grazie Varenne Dell'idea Grazie di essere venuto Qua dalla Sicilia In realtà era più Una rimpatriata Per la nostra Di Varenne Perché ci si vuole rivedere Da quando siamo stati In Giappone insieme Grazie mille Grazie mille Jonathan Grazie mille Scompiglio Anzi Grazie mille A Varennone Nazionale Lascio andare via I miei ospiti No Varenne rimane Varenne rimane Io mi avvio Tenta a vivere Che dè Si va a letto Si va a letto Ecco per citare Hai citato involontariamente Un mio meme Sai cosa sono i meme No ok Perfetto no Io Perfetto Grazie mille Jonathan Un attimino di pausa Ragazzi Concedo i miei ospiti E poi sono a voi Per leggere gli abbonamenti Tutti si fa Anche le nostre cazzate Un secondino Arrivo subito Ciao